Ora, non dici nessuno perché va, ma va a parte di me che lega con tutte le sue amiche in città. Allora esco, quando lei lo so fare lo stesso, e porto tra di mano a un certo tratto, e non mi lascerò sempre un altro, se ne prendevo dentro dentro adesso e sopporto, avanti quando torno a casa tanto stato, avanti quando torno a casa tanto storto, perché mi hanno attorno sempre come fosse, sì, come se fosse il primo giorno. Secondo me è una trappola, non dici sto perché qua. Allora, non dici nessuno perché va, ma va a parte di me che lega con tutte le sue amiche in città. Allora esco, quando lei lo so fare lo stesso, e porto tra di mano a un certo tratto, e non mi lascerò sempre un altro, se ne prendevo dentro dentro adesso e sopporto, e non mi lascerò sempre un altro, se ne prendevo dentro adesso e sopporto, e non mi lascerò sempre un altro, se ne prendevo dentro adesso e sopporto, e non mi lascerò sempre come fosse, come se fosse il primo giorno. Dovessi il positivo giorno